Anche perché di solito i punti interrogativi sono orario, giorno e luogo. Il luogo ce lo siamo smarcato, adesso capiamo l'orario e il giorno, che è quello che ha creato un po' di panico. Però adesso capiamo. Ci ragioniamo, vai. Eccoci qua. Siamo live. Sì, mi pronuncia. Ti hai cambiato l'intro? Eh sì, io ero un po' di stufa. Ok, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, benvenuti in questo nuovo video del nostro podcast di Concorsi Meter Academy. Il nome del podcast l'abbiamo già scelto, ma ancora lo stiamo un po' testando, quindi vi aggiorneremo. Comunque, mettete like, iscrivetevi al canale, quindi queste sono le cose che vi diciamo sempre. E oggi parliamo di... Diario della prova scritta d'esame del concorso 1650 allievi agenti di pulizia di Stato. Esattamente. Tanta roba. Sì, noi oggi in teoria dobbiamo parlare di raccomandati, come è stato scritto qua dietro. Vedete? No, vero, perché avevi... No, avevo scritto la lavagna. Però abbiamo cambiato argomento perché è uscita l'attesissimo, cioè, in questo momento penso che per la maggior parte delle persone era, non so, il giorno del matrimonio. Tipo Natale, ecco. È arrivato questo giorno e quindi abbiamo deciso di fare questo video, dove spiegheremo, leggeremo un attimino le convocazioni, spiegheremo un po' di cose, risponderemo alle vostre domande che ci avete già fatto indieme. Vabbè, domande un po' molto assurde. Lo possono dire domande assurde? Cioè, non volevo dirlo io, però sì. Ormai, diciamo domande particolari, anzi posso dire domande di chi non ha aperto il file? Cioè, mi auguro... Domande di chi non ha aperto il file, alcune domande sono proprio da... Ecco. Infatti ho sentito un attimo di silenzio, quindi sicuramente anche i nostri ascoltatori dal podcast diranno, oddio, ma cos'è successo? E ho fatto una faccia... Cioè, forse l'inizio di ero giusto, cioè secondo me è giusto. Quindi, dai, allora, iniziamo... Vai, iniziamo. Sì. Allora, fondamentalmente, ragazzi, io leggo direttamente il PDF ufficiale, ecco perché spesso non guardo in camera, ovviamente per chi sta solo ascoltando non ne frega un cazzo. Allora, si comunica che la prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 agli agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto, bla bla bla, si svolgerà dal 27 novembre al primo dicembre 2023, presso la nuova fiera di Roma, ingresso nord, sita in via Portuenze, 1645-1647, Roma. Quindi, se volete che tutti, tutti, dovete presentarvi lì. Quindi possiamo dire che il dove l'avete, cioè, è abbastanza chiaro. Sì. Via Portuenze, 1645, ingresso nord, nuova fiera di Roma. Quindi penso che... Penso che bisogna aggiungere altro, no? No. No, anche perché di solito i punti interrogativi sono orario, giorno e luogo. Il luogo ce lo siamo smarcato, adesso capiamo l'orario e il giorno, che è quello che ha creato un po' di panico, però adesso capiamo. Ci ragioniamo, vai. Ah, un'altra domanda che di solito crea panico è, ma devo portare qualcosa? C'è anche scritto, e infatti, dopo dice. Quindi partiamo... I candidati... Partiamo quindi da che cosa bisogna portare. Esatto, esatto. Devono presentarsi il giorno della prova scritta muniti di un valido documento di identità e tessera sanitaria su supporto magnetico. Direi che fino a qua... Che dici? Io penso che sia tutto fino a qua. Tutto, esatto. Tutto abbastanza semplice. Assolutamente sì. Ora, il quando ti ha creato un po' di panico. Quindi innanzitutto... Il quando è... Facciamo un po' di esempi un po' con persone che ci hanno scritto, così cerchiamo di capire come leggere questo... Ok. Allora, esatto. Allora, considerate che ogni giornata, quindi questo ve lo anticipo, non è scritto da nessuna parte, cioè o meglio ci sono dei grafici, delle tabelle, ma ve le spiego. Fondamentalmente ogni giornata disposta per la prova scritta ha due orari. Il primo è alle 8 del mattino e l'altro è alle 12 e 30. Quindi ci sono due tranche, diciamo così, per tutti i giorni. Infatti nel bando, cioè nell'allegato, vedete tipo... 27 novembre 2023, ore 8 da cognome a cognome, ore 12 e 30 da cognome a cognome. 28 novembre è stessa cosa, 29 e 30 novembre è 1 dicembre. Quello che ha scatenato un po' di panico è capire... Ma io quindi che giorno sono? È molto semplice. Dipende dal tuo cognome. Quindi il 27 novembre proprio inizia dalla A, quindi il primo candidato sarà Alla, quindi A, A, L, 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 A, Sami, fino a Bozzolan Diego. Quindi cosa vuol dire? Facciamo un esempio su di me, ok? Anzi facciamo un esempio su Rossi, cognome Rossi. Quindi Rossi è quello più gettonato negli esempi. Esatto, esatto, che dicono si è uno dei cognomi più comuni italiani. Quindi mi chiamo Rossi, Rossi Loredana, facciamo finta, allora io scorro, scorro e mi rendo conto che il 30 novembre alle 12 e 30 i candidati sono da Papa Alessandro fino a Rizzitiello Giulia. E poi dico ok, Rizzitiello. Quindi faccio A, E, I, O, U. Aspetta, io però sono Rossi, quindi la O va dopo la I. Allora no, non sono il 30 novembre, sono 1 dicembre alle ore 8 da Rizzo Alberto fino a Spataro Rebecca. Quindi tra Rizzo e Spataro, quindi Rizzo R, I, c'è anche R, O. Quindi Rossi io mi devo presentare l'1 dicembre alle ore 8. Esatto, un po' di confusione secondo me nasce, tipo nelle lettere, esempio, non signor Rossi, ma quelle che sono un po' a cavallo, tipo da, mi pare che è da Pa, quello dalla P. Sì, Papa Alessandro, no c'è Pa, Onni, Lara alle ore 8 il 30 novembre e Papa Alessandro alle 12 e 30, quindi sì, qua c'è un a cavallo. Qui si va un po' a cavallo, ma non è complicato insomma capirlo, sempre seguite e continuate a seguire l'elenco, diciamo così, dalla terza lettera in poi, dalla seconda lettera in poi, dalla terza lettera in poi e così via. Esatto, guarda, facciamo anche un esempio, perché è da Matteucci Gabriele, questo è 30 novembre 2023, ore 8, da Matteucci Gabriele fino a Pa, Onni, Lara. Quindi se io mi chiamo Palla, di cognome, quindi devo fare P-A-L, la L è prima o dopo la O? Mi ripeto l'alfabeto e dico ok, la L è prima della O, quindi io rientro qui. Se invece... Cerca di essere più seriosa, per favore. Sono seria, sono serissima. No, ho detto, mi ripeto in mente l'alfabeto, A-B-C. Allora, questo video ragazzi lo stiamo facendo, perché voi forse non lo sapete, cioè io mi auguro che l'80% di voi non hanno bisogno di questo video e aggiungo, e quindi magari saranno lì a farsi una risata, però comunque ci sono arrivate un bel po' di domande su Instagram per quanto riguarda appunto, io mi chiamo così, quando devo andare, io mi chiamo veramente tante, e quindi abbiamo deciso di fare questo video. Quindi io penso che è tutto chiaro sull'elenco. Tu che dici? Cioè, me lo auguro. Poi in realtà, a proposito di elenco, c'è un'altra categoria, che però è per chi ha l'attestato di bilinguismo. Quindi, se tu non hai l'attestato di bilinguismo, tutto a posto. Vedi il tuo cognome esattamente come abbiamo fatto. Se invece ce l'hai, e quindi hai scelto di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, sei stato l'1 dicembre, ore 8, questionario in lingua tedesca. Ok, molto molto semplice. Tra l'altro poi dopo c'è anche la spiegazione che io ora vi ho fatto. C'è, e poi c'è un'altra postilla. Quindi torniamo un attimino sul come presentarsi e cosa portare, se è chiaro fino a qua. Leo, posso andare avanti secondo te? Eh, abbastanza sì. Ok. Allora, diciamo, cioè il PDF dice Ai candidati non è in nessun caso consentito introdurre nella sede d'esame alcun tipo di bagaglio. Trollei, valigie, borsoni, borse. Ragazzi, ricordatevi, è un concorso. Quindi al massimo forse vi potete portare una penna? Esatto. Guarda, in realtà dopo lo dice. Quindi neanche quella, esatto. Neanche la penna. Spoiler. Neanche la penna. Esatto. Infatti la dice non essendo prevista. Ma la panza è presenza, diciamo. Ma la panza è presenza. Se non è la panza perché magari si è allenato, porta la presenza e finisce così. Ammazza e battuta. Andiamo avanti. Quindi non essendo prevista una zona destinata al deposito pagato. Magari vi mettiamo le risate finte, queste cose qua. No, secondo me non c'è bisogno perché qualcuno starà ridendo, io ne sono certa. Qualche mio sostenitore è un rismo. Ma soprattutto... Tu non hai sostenitori. Ma non è vero, ragazzi. Per favore, commentate qua sotto. Perché ogni volta Leo dice che io sono antipatica e odiata da tutti voi. Ma secondo me non è vero. Per me sì. Comunque andiamo avanti. Allora. No, non è vero. Mi vogliono bene perché capiscono che io le cose le dico per loro. Quindi. Non è altresì consentito, inoltre, introdurre smartwatch, tablet, auricolari, libri di testo, riviste. Sarebbe bellissimo se portassi le riviste. Adorerei. Ma no. Appunti, foli di carta, penne, matite, apparati, ricetrasmittenti, calcolatrici, nonché qualsiasi strumento elettronico, informatico, telematico e fotografico idoneo a monetizzare, a memorizzare, trasmettere o elaborare dati. Per i soldi, per l'età, pensi sempre ai soldi. Ma non è vero. C'è la cosa da fare. Per esempio monetizzare. Che vuoi monetizzare? Monetizzare. 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 Sarà consentito portare al seguito esclusivamente cibo, bevande e farmaci, oltre a effetti personali strettamente necessari, riposti all'interno. Non può mangiare. Infatti a me, boh, ovviamente ragazzi, non portatevi, cioè, cose unte. Sì, ma secondo me sai perché non ho scritto questa cosa? Perché io immagino chi magari fa un viaggio in giornata, perché magari vive vicino Roma, che viene con borsoni, o chi è dormito lì e poi deve lasciare il BNB e fa valigie, cose. No. Quindi ragazzi, importante, dice anche, vabbè, devono essere riposti all'interno di un contenitore o un sacchetto di plastica trasparente, ma nel dubbio, ragà, non portatevi niente, che facciamo prima veramente. L'ingresso nella sede in cui si terrà la suddetta prova scritta è riservato esclusivamente ai candidati, quindi anche lì no accompagnatori, salvo che per eventuali accompagnatori di donne in comprovato stato di gravidanza, con esigenze di allattamento. In tali casi è ammesso per ciascuna candidata esclusivamente un accompagnatore il quale non potrà accedere all'interno dell'aula d'esame. Ci siamo? Ok. Poi? Semplicemente, i candidati che ovviamente non si presentano sono esclusi al concorso, è evitato, vabbè ragazzi ve lo leggo, ma giusto per, è evitato comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto e mettersi in relazione con gli altri. Cioè, nel senso, salvo che ve lo dicano loro. E poi... Della cacciara, praticamente. Esatto, esattamente. E poi dice fondamentalmente di leggere le modalità di svolgimento della prova, che è riportato, immagino, parli di quelle nel bando. Esatto, vorrei aggiungere due cose. Allora, le domande che ci hanno fatto è, se io sono a RAV, come faccio ad andare al concorso? Allora, se sei a RAV, vai magari dal tuo comandante di compagnia, Plotone, quello che è, e comunichi che hai il concorso. In quel caso lì, tecnicamente, sono obbligato ovviamente a darti una sorta di licenza, quindi in licenza ci devi andare. Nel caso in cui invece ancora devi partire a RAV e per qualsiasi, per strano motivo, delle date coincidono, quindi magari dovresti essere presente a RAV, però è il concorso, allora in quel caso lì scrivi, manda un'email, comunica che comunque tu hai questo concorso e in quel caso lì possono succedere due cose, o magari ti dicono arriva il RAV dopo, oppure come succede spesso, e su anche tantissimi nostri allievi, ti rimandano a RAV successivo. Quindi è tutto molto semplice, ok? Quindi questa era una delle domande che ci hanno fatto. Altre domande che ci hanno fatto? No, appunto c'era un po' di confusione sul cognome, però... Insieme, poi altre domande che ci hanno fatto è stata anche, vabbè, come prepararsi eventualmente con noi, perché ci sono ovviamente gli ultimi, diciamo così, quelli lì che si... Voi, ritardatari, che state arrivando... Non si fa. ...per studiare, non si fa, ma in quel caso lì, ma siete messi male, noi abbiamo un memory 3.0... Appartemente è un percorso con tanti di memoria e tutto quanto, più 16 o 20 appuntamenti con il docente, quindi devo dire ne fate 2-3 settimane con qualsiasi tipo di docente, quindi inglese, matematica, italiano, logica, memoria, quello che vi parla a voi. Quindi anche quello, in quel caso lì, può fare al caso vostro, ovviamente per i ritardatari, cioè di quelli che ancora non possono studiare. Sì, anche perché, ecco, stiamo dicendo la stessa cosa, infatti, a bancarati è cambiata completamente, infatti ne parlavamo l'altra volta con i docenti, che fondamentalmente chi ha già studiato e quindi soprattutto nelle materie di comprensione, italiano, matematica, inglese, bene o male è ok, perché alla fine, come diciamo sempre, la matematica è quella, le regole di grammatica e di inglese sono quelle, l'analisi logica è quella, quindi certo, i quesiti possono cambiare, ma se sai bene la teoria, comunque dovresti essere ok. Ne parlavo stamattina inglese, forse, quello che stanno andando un po' più di problemi e noia. Eh sì, perché effettivamente, cioè di soldo le persone hanno molte lacune. Come? Ho capito che hanno cambiato tipo lo stile, la tipologia di domande, infatti la donna assolucente di inglese ha spiegato loro come approcciarsi proprio alla domanda. Esatto, però ecco, diciamo che queste sono ok. Scusami, stavi dicendo qualcosa? Se no dico delle materie mnemoniche. No, no, quello delle materie mnemoniche. E quindi dicevo, questo confrontandoci con il team di docenti con cui ho parlato pochi giorni fa, ovvero quando è uscita la banca dati, comunque quello è ok. Il vero problema sono le materie mnemoniche, perché quelle veramente sono, è cambiato tutto, quindi se non hai un metodo di memorizzazione veloce, quindi per veloce cosa intendo? Leggi la domanda, leggi la risposta corretta e le memorizzi, è molto difficile, a meno che tu non abbia veramente delle basi di cultura generale, di storia, di geografia importanti. Ma a parte c'hanno anche delle domande che sono anche un po' particolari, tipo chi ha presentato Sanremo nell'anno X? C'è una domanda che già sapete che ci sono nei corsi, insomma. Volevo rispondere a due domande che sono fatte. La prima è quando si parte per il corso, quindi quando finisce la fase concorsuale si parte per il corso ed esce l'alloratoria. Allora ragazzi, sul bando se non erro non c'è scritto granché. No, guarda, ce l'ho davanti. La cosa che sappiamo è che mi pare che, a parte i quiz che li finiamo adesso, poi molto bene, passeranno due o tre settimane e si inizieranno le visite mediche e le prove fisiche. Ah, guarda, scusami, ti ho interrotto perché effettivamente ho visto nell'articolo 11, accertamenti dell'efficienza fisica, che il 18 dicembre sarà pubblicato, anzi lo leggo così, lo vediamo insieme, i candidati indicati all'articolo 10 saranno convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica e al successivo accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale in base al calendario che sarà pubblicato il 18 dicembre. Quindi noi sappiamo che il 18 dicembre viene pubblicato il calendario per fare le prove. Quindi secondo me se ne parla a gennaio. Esatto, poi diciamo una barra due settimane per chiamarvi tutti, quindi secondo me il corso partirà anche da marzo, marzo 2021. In febbraio, marzo 2021, secondo me sono gli estremi anche dopo. Quindi più o meno, ragazzi, non si sa niente, quindi vi stiamo sperando date a caso giusto per capire e basta. Ragazzi, vi vogliamo bene, un saluto e in bocca al lupo. Ciao Ciao